Lei non faccia il Villano? No, mai, mai. Lei è contento di aver vinto il premio come miglior attore? Abbastanza. Anche con lei ci conosciamo da quanti anni, caro Villano? Da tanti. Quando era piccolo? Io da 6-7 anni avevo. No, 6-7 anni no. 6-7 anni no, però insomma 27 sì, 26-26. Ma oltre che lavorare con la Ferrazza Anatoli, lavora anche, cosa fa? Anche altri spettacoli? Adesso gireremo, io provo da dirlo in quel minuto, che mi prego dovrebbero un po' girare, facciamo l'Eterno Marito di Carnevali con la regia di Autelli, poi facciamo il prossimo progetto con la Ferlazzo, poi faccio il mio progetto, se riesco a farlo, che saranno quei 10 anni che voglio farlo. Bisogna trovare i soldi? Sì, bisogna trovare i soldi. Adesso che ha vinto il premio Ubu, i soldi li proviamo. Vediamo. Grazie, caro Villano. Grazie, grazie.